Risultati ancora da definire a sei giorni del voto e alcuni candidati in attesa di mettere insieme quelli che ora saranno esaminati dai tribunali. A spanne larghe si può comunque proseguire riferendo le principali preferenze ottenute dai candidati della prima parte si è già dato conto. Poca storia anche per la sinistra, mentre la lista di Paolo Manincheda non rielegge il consigliere uscente di Bosa Augusto Cherchi 1317 preferenze e il sindaco di Santa Giusta Antonello Figus si ferma a quota 1111. Nella lista Sardi Liberi di Mauro Pili l'ex sindaco di Ghilarza Stefano Liccheri ottiene 506 voti e l'imprenditore di Oristano Andrea Riccio che ne è consigliere comunale è a quota 475. Laura Celletti per autodeterminazione ottiene 326 voti. Tra i sardisti risultati bulgari per Efisio Trinkas 1212 voti, Sara Olla 995, Paolo Angioni 946 e il sindaco di Morgongiori Renzo Iba 882. Pezzi da 90 anche nell'Udc con Gian Michele Guiso 628 voti, Stefano Sanna sindaco di Abbasanta 623, Giuliano Uresa 581, Rossana Fozzi 500. Attesa tra i riformatori per la possibile rielezione di Fofo Marras di Bosa che ha preso 2.132 preferenze. Lo seguono il sindaco di Marrubio Andrea Santucci 965 e Roberto Pisano 727. Il Partito Democratico perde i due seggi, rilevante comunque l'affermazione personale di Antonio Solinas, prende 2.695 voti ed è il candidato più votato di tutte le liste presentate nel collegio di Oristano. Lo seguono Maria Cristina Manca di Terralba 1548, Mario Tendas consigliere regionale uscente 1326 e l'ex sindaco di Siamanna Roberta Muscas 1280. In futuro comune il medico Antonio Cinello spunta 792 voti, seguito dal sindaco di Fordongianus Serafino Pischetta 335 voti, il medico Bruno Palmas con libere uguali ottiene 757 preferenze. Nessuna storia per progetto comunista mentre nel campo progressista spunta Antonio Pinna 390 preferenze. Noi la Sardegna ha in lista d'attesa la possibile elezione del sindaco di Santolosurgio Diego Loi, 770 preferenze. I cristiano popolari e socialisti emergono con Francesco Cabras, 317 voti, mentre Sardegna Comune aveva tra gli altri in lista Anna Maria Uras e Francesco Federico, entrambi consiglieri comunali di Oristano. Questa lista potrebbe ottenere il seggio di Massimo Zedda nel caso decidesse di restare sindaco di Cagliari. Le proteste degli ultimi giorni hanno dato esito positivo. Da questa mattina infatti i laboratori analisi ospedalieri e territoriali avrebbero dovuto iniziare a fare i prelievi col contagocce, ma arriva la sospensione immediata del provvedimento da parte del direttore dell'ATS Aslo Oristano, Mariano Meloni, in accordo con il direttore del laboratorio analisi Roberto Irde. Sembra logico pensare che se non ci fossero state lamentele sia da parte dei pazienti che da parte delle associazioni di categoria, i servizi amministrativi ATS non avrebbero garantito una così tempestiva acquisizione del personale necessario alla regolare prosecuzione delle attività. Si tratta di quattro tecnici di laboratorio a tempo indeterminato e uno a tempo determinato, tre dei quali prenderanno servizio già nei prossimi giorni. Nessun numero chiuso e nessuna limitazione dunque negli accessi ai laboratori analisi di Oristano, Bosa e Ghilarza e nei punti prelievo territoriali di Ales, Cuglieri, Busachi, Laconi, Mogoro, Samugheo, Terralba e Villa Sant'Antonio, né domani né nei prossimi giorni. I cittadini potranno recarsi agli sportelli come di consueto per sottoporsi ai prelievi e alle analisi. Restano da superare ancora alcune criticità per quanto riguarda il personale medico, per il quale non esistono graduatori e valide in Sardegna, ha affermato il direttore dell'Aslo Ristanese, ma l'incremento di risorse professionali del comparto consentirà di colmare almeno in parte le carenze di organico. Il tema dell'energia nucleare non è qualcosa da poter prendere alla leggera e di cui parlare a mezza bocca, sperando di farlo recepire dalla società sull'entusiasmo di una potente onda politica. Lo denuncia il partito indipendentista Progetto Repubblica dopo le affermazioni del vicepremier Matteo Salvini che nel corso di un comizio elettorale a Cagliari avrebbe citato di sfuggita il nucleare come tema da non rifiutare a priori. Parole che devono far alzare la soglia di attenzione anche per quanto concerne il sito in cui ubicare il deposito unico per le scorie nucleari, affermano in un comunicato. La Sardegna, ricordano gli esponenti di Progress, ha già massicciamente rifiutato l'ipotesi nucleare in occasione di tre distinti referendum, sia italiani che sardi, uno nel 1987 e ben due volte nel corso del 2011, quindi anche in tempi recentissimi. L'isola, entro cinque anni, andrà incontro ad una rivoluzione in campo energetico legata al già programmato abbandono del carbone, ricordano. Servono quindi scelte lungimiranti per pianificare il graduale passaggio dai combustibili fossili alle rinnovabili, considerando che esiste la straordinaria possibilità di poter puntare con decisione su un futuro di indipendenza energetica sostenibile con il solare, l'eolico, l'idroelettrico e il geotermico. Progress interpella per la prima volta a poche ore dalla sua elezione il presidente Solinas, sia in qualità di presidente della regione, sia in veste di alleato organico della Lega, che costituisce l'azionista di maggioranza della nuova giunta, chiedendo di fare al più presto chiarezza in modo ufficiale ed esplicito su eventuali ipotesi di riavvio del dibattito sul nucleare. Pare inizi domani a Milis, da dove era partito. La rimonta è la riscossa che Massimo Zedda vuole imprimere alla coalizione che senza successo finale lo ha sostenuto nelle recenti elezioni regionali. Con altri Zedda ritiene che in Sardegna, dopo il Molise, si sia aperto un laboratorio che dovrebbe coinvolgere lo zoccolo duro del PD liberi e uguali con il seguito degli altri schieramenti che hanno accompagnato Zedda in una campagna elettorale che, secondo il sindaco di Cagliari, se non altro è servita ad arginare una sconfitta più coccente. Non c'è dubbio che ci sia desiderio di riscatto, anche in relazione alla prossima scadenza elettorale, delle elezioni europee di maggio e delle tornate elettorali amministrative che incombono in autunno e nella primavera prossima, turni elettorali che si presentano allo stesso problematici dopo l'incerto esordio dei sindaci nelle elezioni regionali scorse. Domenica e martedì ad Oristano si corre la Sartiglia e scavando nei secoli è facile verificare che la corsa ha una storia parallela a quella di Oristano, una storia introdotta e subita dai sardi oristanesi che corrisponde all'avvicendarsi nel tempo delle varie dominazioni. Il nome della Sartiglia, Sartilla o Sartilia, deriva dallo spagnolo Sortia, che significa anello, anzi più esattamente Sortilla, che sarebbe il diminutivo spagnolo di Sortia. Le origini di questo gioco equestre sono lontane e non solo nel tempo. Furono i crociati che le avevano conosciute in Oriente a introdurre le gare cavaleresche in Occidente tra la prima e la terza crociata, 1118-1200, probabilmente assieme alla Quintana di Foligno e alla corsa del Saracino di Arezzo. Nelle descrizioni degli antichi storici di milizie si leggeva che il gioco all'anello consisteva nel sospendere al termine di un percorso stabilito ad altezza di uomo a cavallo un anello che il cavaliere correndo doveva infilare con la lancia o la spada. In Sardegna il gioco venne importato non dalla Toscana ma dalla Spagna, dove prima degli spagnoli lo praticarono gli stessi mori. Divenuta la sortia spagnola, la gara fu conosciuta e praticata alla corte del giudicato d'Arborea, ma non è da escludere che essa si svolgesse anche prima dell'invasione aragonese. I legami di parentela tra la casa d'Arborea e quella d'Aragona spiegano come giudici e cavalieri trascorressero un certo periodo di educazione alla vita di corte e delle armi presso la casa d'Aragona. Rientrando in Sardegna è facile che nella corte di Oristano, tra gli altri usi, abbiano introdotto anche quello del gioco equestre. Qualche sardo, come Gonario di Torres, aveva partecipato alle crociate, ma è molto improbabile la diretta importazione nell'isola del gioco d'origine orientale. In Italia furono i pisani i primi e più abili nel praticare la giostra, con Ugo Visconti, reduce di una spedizione in Terra Santa, autentico campione nei giochi di corte, nella sartiglia di Oristano. Sono presenti motivi tipici della giostra e del torneo, che suppongono posteriori contaminazioni dovute ai giochi militari germanico-latini. Carlo I d'Angio introdusse nel regno di Napoli e Sicilia, conquistate nel 1266, il gioco delle lance e la corsa dei cavalli, con giostra e tornei, che presto si diffusero in tutte le corti e i comuni della penisola. Anche l'educazione di Mariano II d'Arborea si svolge in quest'epoca e durante la permanenza di Carlo d'Angio a Firenze, inviato da Bonifacio VIII nel 1300-1302. Giovanni Villani, storico del tempo, descrive Mariano, dedito ai divertimenti circondato dalla gioventù d'ore della nobiltà fiorentina e toscana. Sposata la figlia di Andreotti Saracino, comandante in capo della flotta pisana, è verosimile che Mariano II, nel condurre con sé la giovane sposa in Oristano, abbia offerto, secondo l'uso del tempo, spettacoli al popolo e giochi equestri militari. Altrettanto si sarà verificato per le nozze di Eleonora d'Arborea con Brancaleone e Doria e di Beatrice d'Arborea con il conte di Narbona. Parte Mediterranea, giunta alla sua diciannovese medizione, principale manifestazione collaterale alla Sartiglia, a organizzare l'evento espositivo la Camera di Commercio di Oristano, decisa a mantenerlo ad Oristano anche nella previsione di un accorpamento dell'ente camerale con Cagliari. A ribadirlo con forza il presidente Nando Faedda nella considerazione che l'oristanese esprime eccellenze nel settore dell'agroalimentare, dell'artigianato artistico e usuale e in via principale della ceramica artistica. Al Teatro San Martino di Oristano, la prima delle tre tappe che accolgono gli elementi espositivi, sui quali, proseguendo nella visita inaugurale nei locali Ex, Fa e a Palazzo Paderi, si sono soffermati il prefetto Gennaro Capo, il sindaco di Oristano Andrea Luzzo, il comandante dei carabinieri Domenico Cristaldi e le altre autorità. Pur nelle difficoltà presenti nella organizzazione di questi momenti, in particolare per quanto riguarda la disponibilità di locali a norma, Mediterranea resta il riferimento espositivo più importante del Carnevale e della Sartiglia di Oristano. Con un investimento di 600 mila euro, Marcedì potrà finalmente dire addio a Fosse Settiche, Pozzineri e Autospurgo. Abanoa ha giudicato la gara per realizzare tutto il sistema di infrastrutture che consentirà di convogliare i reflui al depuratore consortile di Arborea. Nei prossimi giorni sarà stipulato il contratto con l'impresa giudicatrice che darà avvio ai cantieri. Finalmente si realizza un'opera di fondamentale importanza per la borgata di Marcedì, commenta il sindaco Sandro Pili, che consentirà di eliminare l'annoso problema e favorire l'auspicato processo di valorizzazione e sviluppo generale in termini produttivi e turistici, nonché di tutela e valorizzazione delle ricchezze ambientali e culturali presenti. Soddisfazione anche da parte dell'assessore alle borgate Simone Puddu. Grazie alla collaborazione tra gli enti, sottolinea l'esponente della Giunta Pili, è stato possibile dare celerità alla procedura realizzando lo stralcio dei lavori previsti per la nostra borgata che hanno avuto la priorità. A Marcedì era già stata realizzata la rete fognaria, ma non poteva essere attivata proprio perché mancavano le opere di collegamento al depuratore, che sarà realizzato con il nuovo finanziamento. I lavori inizieranno nelle prossime settimane e saranno conclusi entro l'estate, per consentire di effettuare i collaudi proprio nella stagione in cui la borgata ha un maggior carico di popolazione. Al termine dell'opera le utenze potranno scaricare direttamente nelle tubature e abbandonare gli attuali sistemi di raccolta e smaltimento dei reflui. Passata la tempesta elettorale, che tra l'altro ha lasciato a terra ben due consiglieri regionali del margine, si riprende a parlare fuori dentro il Consiglio Comunale dell'avvenire economico della città. A lanciare l'allarme per primo il circolo politico Forum per Macommer, che già da prima delle elezioni aveva denunciato la debacle che, da un punto di vista demografico, sta subendo la città negli ultimi anni. Secondo il Forum, infatti, al 13 dicembre, ultima rilevazione, la popolazione macomerese era di 9.893 residenti a fronte dei 9.979 dell'anno precedente, considerando anche che vi è stato l'aumento di 12 unità di cittadini stranieri. Il dato più allarmante continua il Forum e il crollo delle nascite, giunto al minimo storico di 48 unità, di cui 4 da copia stranieri. Si sono poi iscritti all'anagrafe 148 persone, di cui 27 stranieri, ma se ne sono cancellate 167, inclusi 13 stranieri. Tutto prosegue il circolo con prospettive allarmanti per le istituzioni scolastiche, a partire dalle scuole materne. 17 macommeresi hanno trasferito all'estero la loro residenza. Qual è la causa di tutto questo? Secondo il Forum, è la conseguenza del crollo delle attività industriali ed il ridimensionamento dei servizi pubblici. In assenza sostiene il circolo di una proposta credibile di rilanci sia da parte del comune che della religione. Il più duroso investimento, l'avanti-circolo, è costituito da 40 milioni destinati a nuovi ceneritori di Tocsilo, che oltretutto ha una tecnologia obsoletta e certamente non crea nuova occupazione, che invece crescerebbe con la creazione di piattaforme per la lavorazione del materiale proveniente dalla raccolta differenziata. Quando il nuovo inceritore entrerà in funzione, cioè nel 2020, sempre secondo il Forum, abesso che si superino le vicende giudiziarie di questi giorni, sarà inutile, come del resto ha detto l'assessore regionale, poiché il progredire della raccolta differenziata renderà inutile il nuovo impianto e rimarrà solo quello di Macchiareddo. Lo stesso, diciamo noi, ha ripetuto prima delle elezioni il candidato regionale Zedda. La storia di Macromer, continuano dal Forum, dimostra che la città si è sviluppata solo grazie all'industria. Da qui il rimprovero all'amministrazione comunale di non aver mosso un dito contro il commissariamento del Consorzio Industriale, problema che è stato però affrontato nell'ultimo Consiglio Comunale dal capogruppo Gianfranco Congiu. Ed ancora avrà avanti il circolo, nell'Unione dei Comuni e nel sindaco di Macromer hanno fatto nulla al momento delle delimitazioni delle zone economiche speciali, che incentivano a questo punto solo le zone a ridosso delle ale portuali. Auspicchiamo, concludere il Forum, che su questi temi il Comune possa avviare a breve una riflessione per definire una strategia unitaria. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.